Bonjour! Ma che giornatina, eh? Cioè, unendo quella di ieri, la parte finale di ieri sera, quella di oggi... Ci sono tante cose da dover dire, tantissime cose da dover dire e di cui parlare. Intanto, buon 22 maggio a tutti, giorno dell'ultima nostra Champions League, alzata da Gianluca Vialli. E sì, è una situazione alquanto strana vedendo dove siamo oggi. Grande, grande Luca Vialli per sempre. Volevo fare un grande in bocca al lupo per la sua splendida pensione che si troverà davanti, a parte gli scherzi adesso, a Claudio Ranieri che ieri si è ufficialmente ritirato dal calcio a 360 gradi. Allora, se tu costruisci una favola, non è quella di Claudio Ranieri. Non è quella di Claudio Ranieri. Perché la favola è voglio vincere con la mia squadra del cuore, voglio vincere la Champions League. Beh, Claudio Ranieri ha fatto oltre. Claudio Ranieri ha fatto di più di quello che uno può immaginare nella sua stessa favola. Claudio Ranieri ha salvato il salvabile, ha quasi portato la sua squadra del cuore, la Roma, a vincere lo Scudetto, combattendo contro l'Inter del triplete, la Roma di Ranieri che sbatte sulla Sampdoria di Marco Storari e di Giampaolo Pazzini. E in più, vabbè, quello che è stato fatto in Inghilterra nel campionato più importante del pianeta con una squadra di media-bassa classifica è qualcosa che lo piazzerà nell'Olimpo degli allenatori per sempre e di sempre. Quindi grazie Claudio, grazie anche per averci portato alla vittoria al Santiago Bernabeu con la doppietta di Alex Del Piero. Sì, eri tu il nostro allenatore con la maglia dorata New Holland. Insomma, tante cose il buon Claudio avrà da raccontare a tutti i suoi nipoti se non lo sta già facendo chiaramente. E quindi grazie, grazie a Claudio Ranieri. In più, ieri abbiamo avuto una notizia molto più ufficialuccia, cioè sempre ufficiale. L'Inter non è riuscito, Zanghete non è riuscito quindi a estinguere il debito, o meglio a saldare il debito con OAC3, fondo di credito che gli aveva prestato questa somma cospicua di 380 milioni di euro circa, ebbene da ieri l'Inter ha una nuova proprietà. E l'Inter è ufficialmente americana. Allora, ci sarebbero veramente da aprire 700 video sulla questione dell'Inter, perché c'è una questione di soldi, c'è una questione di etica, c'è una questione sportiva, c'è da capire perché una persona può svegliere domani mattina. Allora, facciamo qualche cosa. Io domani mattina mi alzo, chiedo un prestito, chiedo un prestito, porto a far vincere la mia squadra del cuore, e quel prestito non lo estingo più. E quel prestito va alla società creditoria che mi ha prestato quei soldi. Ho detto, io il mio l'ho fatto, io ho chiesto un miliardozzo di euro, sono riuscito a far vincere la Champions, alla mia squadra del cuore, arrivederci e grazie. Questo è un precedente, che ovviamente non potrà ripercuotersi e ripetersi, ovviamente ci sono delle questioni burocratiche dietro a tutti questi conti impossibili, però linearmente è successo questo. È successo questo. Io adesso chiedo un prestito, non so mai se riuscirò a estinguertelo, mi pago i giocatori, mi pago gli stipendi, faccio andare liscio come l'olio, tutto quanto a livello societario, e poi me ne va. È il mio volere andarmene? No, non era il volere di Zhang, va bene. Intanto ci ho vinto però. Intanto ci ho vinto. E va bene. Quindi non ne voglio parlare di questa cosa, non mi voglio veramente intrufolarmi in questioni che non mi riguardano, sta di fatto che il terrorismo mediatico che c'è sempre stato con la Juventus, io con le altre squadre, non lo vedo mai. Non lo vedo mai. E questa cosa mi fa girare i coglioni. Lo posso dire? Questa cosa mi fa girare i coglioni. Tutto l'anno scorso, l'anno e mezzo scorso, con le dimissioni del CDA e tutto quanto, siamo stati in prima pagina su tutti i corrieri, non solo quelli sportivi, tutti i santi giorni. Di questa questione dell'Inter, si sta parlando da quattro giorni, quando mancano tre ore alla riconsegna di un 380 milioni di euro di debito, non ce la facciamo. No. No. Questa cosa era una cosa che doveva succedere prima. Questa è una cosa che si doveva... Poi, magari questo cacava i soldi fuori tutto da un momento all'altro, questo non lo so. Però non è andata così. E quindi, World Fortuna, United States of America, of International, about it, of fact, let's name. E buona Americanada. Detto questo, torniamo a noi. Si fanno calde le ore che avvicinano l'incontro di Sapuro con Tiago Motta. Sapuro, che è appunto il presidente del Bologna e che sta sognando in grande. Sapuro, che ha preso il Bologna quando c'era Sinisa Mialovic sulla panchina. Secondo me, Sinisa ha anche messo le basi davvero forti per quello che è stato fatto. Insomma, sembra un Allegri versus società, ma al contrario. Cioè, Allegri ce l'ha avuta con la società Juventus per il fatto che gli è stato nascosto tutto ciò che era in programma per il futuro della Juventus. Questo ha detto di Max, poi bisogna sentire l'altra campana, ma molto probabilmente è andata così. Cioè, che Giuntoli lavorasse nell'ombra, che si cercasse un allenatore, che Allegri invece ci portasse alla deriva per tutto quello che è successo negli ultimi mesi, per poi vincere la Coppidaria a far succedere quello che è successo. Poi abbiamo saputo che ci sono stati già degli scontri prima tra Allegri e per chi non lo sapesse Allegri aveva messo il cartello come quello dei cani. Noi qui i cani non li vogliamo. Lì, davanti al cancelletto della continassa. Ma al posto del cane c'era Giuntoli. Quindi Allegri aveva vietato che Giuntoli varcasse i cancelli della continassa mentre Allegri e la sua squadra erano lì ad allenarsi. Questa, insomma, è questo da gennaio e febbraio per farvi capire come stavano le cose e che petto la pressione si è venuta a creare nella finale dell'Olimpico. E quindi io lancio questa provocazione cioè non vorrei che stesse per succedere la stessa cosa al Bologna con Sapureu ma al contrario. Al contrario ovvero che Tiago Motta stia lavorando nell'ombra quindi a parte inversa cioè l'allenatore che tratta con un'altra squadra e la dirigenza che fa di tutto per trattenerlo ma che se lo vede sfuggire di mano senza sapere nulla. Perché attenzione Sapureu e il Bologna non hanno perso le speranze per trattenere Tiago Motta non le hanno perse assolutamente anzi Sapureu sta prendendo in considerazione il fatto di distanziare 100 milioni per il mercato per i prossimi tre anni fonte gazzetta dello sport e dando pieni poteri a Tiago Motta pieni poteri mi pare Salvini in quest'altro pieni poteri a Tiago Motta che andrebbe così a scavalcare addirittura nelle gerarchie gente come Sartori gente come Marco Di Vaio che operano per il bene e per la società Bologna questo proprio per fare all-in su Tiago Motta una direttiva da manager adeguamento del contratto abbastanza oneroso tutto questo per convincerlo a oltre ad aver gettato già le basi a continuare a costruire questo Bologna più europeo giocarsi la Champions acquistare giocatori di un certo spessore Sapirou c'è un sacco di soldi c'è un sacco di soldi un sacco ma è troppo tardi caro Sapirou è troppo tardi caro Bologna Tiago Motta al 99% ha già scelto e perché si è rimandato ancora questo incontro tra Motta e la società si è rimandato per un motivo semplice la decisione è presa e la festa del Bologna che ci sarà oggi con Pullman scoperto non deve essere rovinata in alcun modo assolutamente quindi si festeggia tutti insieme Tiago Motta ha già scelto Tiago Motta è in contatto con Giuntoli da febbraio pronto un triennale che bisogna capire queste ancora sono cose abbastanza cerbe se è un triennale secco o se è un biennale con opzione per il terzo a 3 milioni e mezzo barra 4 netti all'anno che è praticamente la metà di quello che prende Allegri la metà di quello che prende Allegri che poi ci torneremo sulla vicenda perché adesso scadono i 5 giorni per l'Allegri e i suoi legali per depositare una risposta per quanto concerne la giusta causa e la lettera di 5 punti fatta dalla Juventus nei suoi confronti ma questo ne riparleremo Tiago Motta ha scelto il futuro è bianconero me lo auguro con tutto il cuore Tiago Motta sta per diventare il nuovo allenatore ma non della Juventus il nuovo allenatore di un nuovo ecosistema che si è Juventus ma è tutto diverso abbiamo visto che Giuntoli sta deagnellizzando e facendo fuori quindi qualsiasi testa affiliata ad Andrea Agnelli e adesso il futuro è tutto nelle mani di Giuntoli che lo sta depositando a sua volta nelle mani di Tiago Motta e quindi dentro i primi nomi con Calafiori valutato tra i 25 e i 30 milioni 21 anni un giocatore eccezionale mi auguro vandrà pure all'europeo tra l'altro ma occhio alle sirene inglesi poi di mercato si facciamo casino poi ne parliamo di mercato occhio alle sirene inglesi per Andrea Cambiaso 40 45 milioni un'offerta arrivata dall'Aston Villa e dal Chelsea interessamento quindi non offerta invece dal Real Madrid ma Andrea Cambiaso sta per rinnovare fino al 2027 con la Juventus con adeguamento di contratto godo perché Cambiaso è un giocatore di quelli stile Calafiori moderno infatti già allenato da Tecomota al Bologna l'anno scorso moderno più ruoli più situazionismo all'interno dello spartito tattico non c'è una staticità all'interno delle caratteristiche ma c'è davvero una macedonia di qualità da poter esprimere quindi giocatori ultramoderni giocatori che piacciono a Tecomota e quindi si sta scrivendo il futuro si sta delineando per cui mi piace iscrizione commentate mi raccomando ci vediamo per un prossimo video io faccio un in bocca al lupo all'Atalanta vediamo se stasera tiro fuori il video infatti adesso lo faccio uscire a pranzo e non stasera esce fuori il video perché magari ci vedremo per il post partita sperando che l'Atalanta riesca finalmente a dare un trofeo a Gasperini e che Gasperini dia un trofeo all'Atalanta e di non morire tra virgolette calcisticamente parlando come un allenatore che non ha vinto nulla ovviamente non sono d'accordo con queste con queste cose per me Gasperini è già un grande per cui forse ci vediamo stasera mi raccomando arrivano gli ospiti vi aspetto